Allora io sono Marcus Cron, io sono Shifton, e signora e signore pantorna di Inna Prison Architect Guardate il pavimento brutto che ho messo, bello, mi piace tantissimo Signorine l'ultima voltata ci hanno scavalto un tunnel Sì, molto arrabbiate, l'abbiamo richiuso Abbiamo visto quanto costa il perimetro esterno e costa davvero tantissimo Davvero tanto, 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 tanto Io ho largato l'officina, come potete vedere ci sono tante cose Infatti le targhe, signore e signori, l'abbiamo fatto Inoltre il tizio che diceva che alla radio c'era uno stronzo che stronseggiava Perché aumenta la pericolosità ragazzi? Dov'è? Cioè perché? Sono stati repressi con la forza, 42 Ma non è vero, ma che dite? Cosa volete ragazzi? Ricreazione Ah sì, perché ci sono gli eventi E mi ha detto concedi a detenuti almeno 6 ore di tempo libero al giorno Sono un botto E però vabbè, per fare questo evento io ho messo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Quindi speriamo che... Senza lavoro? Quindi speriamo che questa cosa si tolga dal cazzo Intanto che non andiamo avanti con gli obiettivi lavorativi Andiamo un pochino a vedere E dice che poi succedono casini al termine di queste 100.000 ore Andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere qualche sovvenzione Allora, implementazione di infrastrutture di massima sicurezza No È interessante No, come? No, perché costano tantissimo le cose Però ci stanno le telecamere E risparmiare sulle guardie Ma potrebbe volesse tipo... Mettere... No, 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 assolutamente no Programma di apprendistato da fare la gneveria Produce 10 letti Mi potrebbe interessare Però dobbiamo fare il corso di apprendistato Ricerca non direzionale Mi uccidono se faccio la ricerca non direzionale E blocco di CLC è 100 prigionieri Quindi, ehi, vabbè Tutti molto... Io direi di andare su questa qui Tranquilla Monta Ci dà un po' di soldaini Ragazzi, guardate Sono tutti tempo libero Attenzione Attenzione Mi sono super agenti Attenzione, pronto? Sì Ti chiamo la famiglia Vuoi chiamare la... Alla ti metto in cella di isolamento No, no, no Non è vero Non è vero Che dicevi, Bruce? Che abbiamo quasi fatto tutto Manca solo sumi agenti Uh, abbiamo fatto tutto Perché abbiamo sbloccato qui Taser per tutti Taser E poi sbloccheremo Taser per tutti Certo è comodo sto cosa che va sopra i tasti Assumere altri agenti per garantire la sicurezza della prigione Quindi 60 Suppongo che faccio così E mi dice 65 Merda Mazza Merda Quanti ne vuoi? 85 Vuoi finire? Quanti ne vuoi? Ok, fatto Fattissimo Tati sordi Menz 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 Però le guardie armate dove stanno? Eh? Cioè come faccio ad armare le mie guardie con... Col teaser? Col teaser Alla teaser Eh non c'è... Ah consente alle due guardie armate di utilizzare il teaser Pello Pello Però dice... Ma ti metti tutti invece? Per ottenere questa attrezzatura i guardie devono legarsi presso l'armeria Sappi che dovrai pagare quegli teaser acquistato Li mortacci tua Dov'è l'armeria? Era lì in fondo Non è questa? Questa piccola Yes Stanco Sei stanco ciccio Ti stai... Perché non ti riposi? Cioè vai qui a riposarti Vaffanculo stronzo Ok molto bene Molto bene Allora I detenuti sono pieni Vediamo se si è sbloccato qualche altra cosa A questo punto Reinserimento Ah questo qui è ancora Stanno scendendo le sovvenzioni ragazzi Ma che vuol dire? Che stiamo arrivando al... Altre terzo man si è nascosto Cosa? Dove? No Dove sono? Why? Probabilmente stanno nel coso Però mo che gli devo dare Ste sei ore di tempo libero Vabbè allora Schipiamo Per vedere se Ecco Il tempo libero Sto evento passa Spero Non lo so Forse Bene ragazzi È venuto il momento Di pasticciare Con la cosa Le telecamere Bellissime Eccole qua Sorveglianza Allora L'altra volta abbiamo fatto Dei grossi errori Quindi cerchiamo di non rivederli Dove mettiamo La saletta di controllo La mettiamo qui Qui a fine corridoio Sì Oppure la mettiamo qui E facciamo un casino E tutto esplode Io la metto qui La metto qui La metto qui La metto qui Quindi visto che abbiamo finalmente Un pochino di soldi E possiamo stare tranquilli Costruiamo Una bella struttura Larga Ma sì Ma chi se ne frega Così? Ti rompe il muro No Aspetta Così tu dici Che devo fare Speriamo Help Help Allora Porta personale Cioè che è la tua porta vera E non è di nessun altro Molto bene E poi Stanze Ci dovrebbe essere Tipo sala Sicurezza Sicurezza Eccola qua Vediamo se abbiamo tutte le stanze No Punti interrogativi Non ci piacciono Allora La cella Zero Zero celli No vabbè Non è vero La sicurezza Non ce l'abbiamo Ci manca Gli alberi La stanza della posta Il negozio Che cazzo è il negozio? E la cappella E la cappella Che è la cosa Più bella Esatto Cappella Mi sembra Mi sembra Corretto uncolo Allora No 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 Non fare così Marucus Cron Non fare così Non fare così Perché qui voglio creare Un nuovo generatore Perché L'ultima volta E' andata a fanculo Tutto quanto Tanto costa solo 5.000 Noi facciamo così Et voilà Leger son fait Molto bene Allora Stanza sicurezza Abbiamo detto Dov'è? 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 Sicurezza Eccola qua Spatapim Brutti questi Bug Non lo so Visivi Si sono molto molto Adirato con voi C'è l'arberia Ce l'abbiamo fatto Ok perfetto Che cosa vuole la sicurezza? Vuole la scrivania La sedia All'armadio dei documenti Mi sembra strano Però va bene Crivania Non voleva il monitor Eh capito Ma l'hai sbagliato stanza Tipo ho messo un ufficio Guarda la gente Che cerca di uscire Dall'officina Con i super Cosi Invece no Poi che altro voleva? Eh armadio dei documenti Ma non è che sicurezza È tipo intesa come L'accoglienza Tipo questa? Non credo No quella è la reception Sop 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 Asporta Le chiavi della prigione Fucile a pompa Taser Indossa un giubbotto Antitaglio Molto molto bene Non soddisfatta Armadio dei documenti A voi sta karma Aspetta un attimo Vediamo un po' Se arriva sto armadio Arriva 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 Comunque le esportazioni Vedete Flusso di cassa C'è Cosa Lastra di metallo Ti toglie i soldini E poi esportazioni 150 dollari Buono Molto buono Allora adesso funziona Abbiamo una guardia Ciao guardia Perché sei un ceppo? Non lo Posso chiudere il ceppo Che vuol dire? Segui Segui il ceppo No ragazzi Che vuol dire segui il ceppo? Seguiamo il ceppo Il ceppo si muove ragazzi È vivo Il ceppo è vivo Vivo Va bene Molto bene Allora Pausa Perché dobbiamo stare Molto attenti E come si chiamavano? Il monitor delle camere Allora Perché avevamo cannato Allora mettiamo il monitor qui Molto bene E facciamo una piccola prova Mettendo In officina Vedete come ho messo la moda Che mette la freccina Sì E mettiamo Mettendo questa qui In officina Allora mettiamo Qui Qui o qua Oppure Mi penso proprio Di prendere la stanza Così Così guarda Guarda di qua Dai Va bene Ci piace La nutella E tutte cose Capanna Capanna L'unica cosa è che Qui Non voglio che faccia Questo coso Perché ho paura Che si attacchino No C'ho paura Che mi zompia la corrente Quindi Smantella Ep 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 Vediamo un po' Come andrà Non lo so Ho molta paura Ho molta paura Cirquito monitor Sicurezza Sì Arriva Arriva il tizio Dai Dai che lo voglio Lo voglio Lo voglio Lo voglio Lo desidero Lo bramo ardentemente Ammazza che giro Luca Che stai faffio mio Scusa Ma da dove cazzo vieni Al bunga Eccoci qua Sì Come sei insacurante No stai calmo Ok Perché sei insacurante Non attivo Costruisci altri monitor Cirquito chiuso C'è scusa C'è una telecamera sola E vuoi due monitor No aspetta No 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 C'è qualcosa Che non va Connetti Con lei Che figo Però Non funziona Molto arrabbiata Ma che vuol dire Scusa C'è qui una guardia C'era il monitor Sì Sì Pronto Gesù Vabbè io ne faccio un altro Ragazzi No seriamente E dice che vuole tanti monitor Io faccio tanti monitor Perché c'è il monitor Molto bello Tanto costa solo Quanto costa? Mille Ma mille Ma chi se ne frega Dalla musica Ma dai che vuol dire Non attivo Tu nonna In fingarda Connetti Collega i tuoi sistemi Tra di loro Eccolo Vedi Va 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 Ha collegato Ok Allora bisogna Far partire il coso Da qui a qui Se fai da qui a qui No Vedete Serve una guardia Per il monitor Ok Molto bello Adesso ce l'abbiamo Il bello che loro che cazzo Stanno a guardare Che io c'ho una telecamera sola Non lo sapremo mai Allora facciamo Adesso facciamo una cosa Fatta good Telecamere Dove sono? Tra l'altro Sono le telecamere Che connettono tanto Che costano tanto O era questo? Sembra Un monitor vuole tre telecamere Un monitor vuole tre telecamere E' buono a sapersi Allora Facciamo una prova La mettiamo qui E qui Credo che vada bene così Non lo so Andate a costruirla Qui Guardalo Guardalo Olivia Invece no Niente dolce per te Figlio della merda Quindi io posso iniziare A togliere le persone Dai posti Cardine Così mi aumentano qui I cicci puzzi Che controllano La telecamera Guarda come gira Mobide Mobide Fanno Allora facciamo così E poi facciamo così Ricompensa scarcerazione Ok Guarda Belle Allora conta dove le devi mettere Quindi se qui c'è uno Sto Anculan vecchio Si No dai no Chi se ne frega Se ne frega Chi se ne frega Allora Che figo Mi piace Mi piace Ma questi che stanno guardando Non lo chiedere Marucus Kron Non lo sapremo mai Va bene Ok Immensa 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 Lo so però A me stanno sul cazzo Tutti quanti Muoiano Nel che qui in mezzo Poi non riescono a mangiare Tipo Perché non me la fai mettere sui muri La freccia è a sinistra Devi zoomare un pochino 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 Vabbè Facciamo così Secondo me Non c'è uno Sti tu posti Però vabbè Poi in infermina Ci sono mai stati problemi No Nelle docce Regà Nelle docce Va bene una Guarda com'è grande Il raggio Tu dici Tu dici E ormai l'ho messa E ormai l'ho messa Nella doccia Nella doccia Ne ho messa una Vediamo che succede Questa è proprio Da super spione Proprio E' una prigione Cazzo Connetti Oppela Vediamo se Come dice Shaifti E' giusto Che basti C'è sempre qualcuno Eh aspetta che lo tolgo E' figa Perché non Non c'è nessuno qui Togliamo questa pattuglia Togliamo questa pattuglia Togliamo E non ci dovrebbe stare nessuno Che ci fanno sti tutizi qui Andate via Andate via Via Ho detto Eh no Perché qui la gente fa Andi Rivieni Vieni Ridai E quindi ecco Vai Vattene Ma Non funziona E' rotta Si c'è l'altra Guarda che rimuove Ah ok giusto Non l'ho collegata Quella Ma qui c'ha Guarda sempre che ha deciso Dei campaccio Vai in cortile Non cagarcazzo Ah perché c'è E' pranzo adesso Va bene Va bene Va molto bene Toglierà quella Quell'altra Quell'altra la togliamo Andiamo a connettere Le docce Così vedremo Gli uomini nudi Oh yeah E l'ho messa al contrario Come potete vedere Sto guardando il muro Sono stato molto bravo Davvero molto bravo Togli questa qui Sbantella Ecco qua Smarmella Come dice il coso Allora Oh Va qui Va qui Va qui E poi ragazzotti La mettiamo in mezzarcazzo La mettiamo davanti alle celle Di massima sicurezza Sì Sì Eh Assolutamente Che figo Una qui e una qui Ma sì Crepi l'avarizia Che figo che abbiamo Le telecamere Ragazzotti Salvataggio automatico Oh mio dio Non l'ho mai fatto Vabbè Ok Qui funziona tutto quanto Molto bene Lì l'abbiamo messa La dobbiamo collegare Non si collega Perché non ti Collegati Giusto Scusa Devi fare così Per uffetto E Usiamo quest'altro Oppela E Oppela Tac Tac Anche se non ci sono i stronzi Spizziamo la situation Le docce Si vedono tutte Dai eh Dai 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 Ragazzi Ma siamo Strafighi Super sicurezza Mediocre Sovvenzioni Sì No No Pridistato Tu nonna E fa la gnaveria Ok Con le armi Stiamo a pace Ho fatto anche Teaser per tutti Stanno facendo il corso Abbiamo sbloccato Le torette di guardia Però Ci abbiamo ancora Secondo me Troppi pochi soldi Per fare I cecchini A meno che Nella prossima puntata Non li potremo mettere I punti di uscita Quindi qui Fuori dal cortile Magari allarghiamo il cortile Mettiamo i cecchini Qui intorno E io metterei un cecchino Anche qua Sinceramente Non l'avranno scavato Perché non c'era le fondamenta Tu sei le fondamenta Hai messo le fondamenta Tu sei le fondamenta Io ho paura che scavino Dal cortile E quindi Dove mettere i cecchini Che li puntano Perché siamo nazisti No 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 Bella raga Alla prossima Ciao